Cosa è la bicicletta rossa? La bicicletta rossa? No, quella è lì, la casa tua. La casa tua è pagata io. Ti ha parlato a te. Io non ho chiesto niente, la bicicletta. Qui ti ha parlato a te, la casa tua. Quella sera che mi hai dato 10 euro, a casa. Non si ricorda? Non ricordo. Mongoloide. Gli ha detto, fai la santa viepra che visitò? Mi hai dato 4 e 5 profumi. Ma domani mi servo qualche altro profumo. Ho finito. Quelli che ti piacciono. Non mi piace. Se mi nasce, vai perché i profumi... Ehi, ho parlato poco troppo. Rocco Balestro, così. Sandalo, così. Rocco Balestro, Sandalo, Giorgio Armani, Giorgio Fango. Giorgio Fango. La bicicletta sta a casa. Ma se vieni qua, adesso, gli altri, dopo che prendiamo le sigarette, dopo quando gli altri che finisci, prendiamo le sigarette perché mi devi favorire un pacchetto di sigarette che non ce l'ho. Favorito? Si. Poi ce ne do. Ehi, non ti buttare avanti che in modo meno... Se bannatele però con i capelli. Ehi. La paga la bottiglia. Quella e poi ce ne do. Se non andammo già una gigante. Mi sa bene il padrone, non lo abito perché il padrone ha detto. E anche la mamma. Qua decenni è? I sigarette. E anche la mamma. Non lo abitare il padrone. E anche la mamma. E anche la mamma.